Marco Muneloni, domani l'ultima di regular season contro la Sette Scogli, partita che non è molto avvincente perché il pensiero è già rivolto a gara 1 di playoff e ci sarà mercoledì. Sì, infatti con tutta la squadra e il mister ci siamo concentrati soprattutto già per la prima dei playoff, ovviamente sempre pensando alla partita di sabato che alla fine non è da prendere sotto gamba perché comunque all'ultima di campionato vorremmo finire in bellezza. Ecco, mercoledì si torna in vasca per i playoff, però ancora non si sa l'avversario, dovrebbe essere una tra quinto e lavagna, quindi ti faccio una domanda classica, secondo te chi affronterete e chi vorresti? Per quanto sta andando adesso il campionato penso a questo punto di affrontare il quinto che è la più probabile. Tu da qualche tempo fai parte della prima squadra, sei in classe 97, fai parte della squadra Lepi, adesso anche della prima squadra. Il tuo esordio è stato molto particolare contro la Roma, non hai nemmeno convocato, poi durante il riscaldamento Quaglio si è fatto male, quindi l'hai sostituito e sei addirittura entrato in campo e giocato. Ci racconti proprio di questo tuo esordio avvincente in Serie 2? Beh, sei stato molto bello e insomma, sei inaspettato perché io stavo ad andarmi a fare la doccia, poi mi hanno dato una galottina, insomma una bella sensazione, anche perché volevo giocare in quell'occasione, insomma una partita molto importante e particolare contro la Roma, insomma, poi il mister mi ha dato anche fiducia, insomma mi ha fatto entrare e spero di averla ripagata, insomma. Forse è stato meglio, insomma, che all'improvviso, che magari non ho pensato troppo alla partita, quindi non avevo tutta questa tensione, perché io appunto, come ho detto, dovevo andare in tribuna e forse questo mi ha aiutato, non lo so, insomma. Sono entrato, anche quando sono entrato all'inizio, non me l'aspettavo che Marco mi dicesse di entrare e poi fortunatamente è andata abbastanza bene, insomma, per questa prima partita.